Il tuo ex passerà da non parlarti a far saltare in aria le notifiche di YouTube, le notifiche di WhatsApp, le notifiche di WhatsApp. Il tuo ex passerà da non parlarti a far saltare in aria le notifiche di WhatsApp. Allora, come può accadere questo, che prima il tuo ex non ti parla e poi inizierà a scriverti tanto per sapere e quindi eventualmente tu potrai riprendere una situazione? Beh, questo si basa su un principio psicologico che è quello che gli altri si comportano in modo complementare al nostro comportamento. Cioè, quando tu dici una persona si comporta in un certo modo, in realtà dovresti dire una persona si comporta in un certo modo in funzione di come io mi comporto. Diciamo che è sempre un qualcosa di ciclico. Talvolta non si capisce dove c'è un inizio, dove c'è una fine, ma c'è un'interazione. Noi stiamo sempre interagendo con gli altri. Quindi l'unica cosa che possiamo fare non è cercare di modificare gli altri, perché non abbiamo la possibilità di agire direttamente sugli altri, ma abbiamo la possibilità di agire su noi stessi. Questo è un punto fondamentale, perché agendo su noi stessi otteniamo una modificazione, otteniamo una traslitterazione, se vogliamo, del comportamento delle altre persone. E allora osserva il comportamento che hai messo in atto quando il tuo ex non ti parlava, quando il tuo ex si è allontanato da te. Probabilmente ti renderai conto che hai avuto un comportamento bisognoso. Probabilmente ti renderai conto che hai avuto un comportamento dove lo mettevi su un piedistallo. E magari, diciamo, quando ti sei allontanata hai iniziato a tartassare, quando sei allontanato hai iniziato a manifestare rabbia, rancore, risentimenti, sia verso te stessa, sia verso gli altri, il che ha influito sul tuo umore. Hai vissuto periodi di tristezza, hai vissuto periodi di malumore, sei stata male, non hai avuto positività nella tua vita. Questo devi tenerlo presente. Questo è sicuramente un dato di fatto. E allora, se vuoi imparare a modificare, se vuoi imparare a far sì che il tuo ex invece cambi, devi cambiare, anzitutto, te stessa. Quello che devi fare è iniziare a concentrarti su te stessa, dare valore a te stessa, vedere tutte le aree della tua vita e cercare di migliorare ogni area della tua vita, soprattutto partendo dal rapporto con te stessa, quindi migliorare la comunicazione con te stessa, iniziare a darti valore, perché soltanto imparando a darti valore, otterrai valore da parte degli altri. Questa è una regola base che devi tenere presente, è una regola che vale, è una regola che esiste sempre, è una regola che funziona sempre. È veramente la cosa fondamentale che tu puoi fare nella tua vita se vuoi ottenere e se vuoi stare bene, se vuoi essere in armonia con te stessa e con tutto quello che ti circonda. Nei riguardi del tuo ex non devi fare più assolutamente nulla se non che iniziare a seminare dei dubbi. Iniziare a seminare dei dubbi attraverso periodi di silenzio completo e manifestazione nei social che da questo punto di vista le storie diventano uno strumento. Ti spierà. Inizierà a spierare i tuoi social quando inizierà a vedere un cambiamento. Inizierà ad avere dubbi che qualcosa nella tua vita sia cambiata quando ascolterai i tuoi silenzi. E allora tutti questi dubbi noi esseri umani siamo fatti così vanno alla ricerca di un accertamento. Hanno bisogno di essere accertati. E allora magicamente ti renderei conto che sarà lui a scriverti che sarà lui a cercare di capire che cosa è cambiato nella tua vita. Devi soltanto non avere fretta. Devi soltanto avere la pazienza di attendere. E quando questo capiterà dovrai essere abilmente vaga abilmente ambigua in modo tale da non poter lasciare tracce in modo tale da non lasciare nessuna traccia. In modo tale da far sì che le persone possano proiettare. in modo tale da far sì che il tuo ex possa proiettare. Perché il meccanismo della proiezione è un meccanismo fondamentale. E il tuo ex si renderà conto che quando il tuo ex si renderà conto che ci sono degli antagonisti quando il tuo ex si renderà conto che ci sono degli uomini interessati a te e che lo dimostrano nei social talvolta anche pubblicamente quando tutto questo capiterà ti renderai conto che c'è qualcosa che vi lega ancora c'è qualcosa che lo legherà ancora a te e inizierà a tartassarti si invertirà la clessidra sarà lui che inizierà a scriverti sarà lui che inizierà paradossalmente a desiderarti a desiderarti di compiacerti cambiando semplicemente un atteggiamento mentale cambiando semplicemente il tuo modo di pensare cambiando semplicemente il tuo modo di vedere le cose andrai ad attivare quella che è la comunicazione energetica tra le persone e nel momento in cui li farai percepire un vuoto nel momento in cui li farai percepire una mancanza attraverso la tua assenza ma soprattutto attraverso la tua assenza mentale sarà lui che ti cercherà e vedrai che le notifiche su whatsapp salteranno veramente in aria ma devi cambiare questa mentalità e tu ce la puoi fare se parti da te stessa segui queste semplici regole e il miracolo arriverà nel frattempo iscriviti al mio canale youtube massimo terramasco attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video iscriviti anche al nuovo canale youtube esoterismo e spiritualità con massimo terramasco e a tutti i miei canali youtube ovviamente crescita personale in primis dove c'è anche un abbonamento per live domande e risposte amor autostima e felicità benessere